E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e qui si chiama Roblox E più precisamente siamo su Portal Heroes E' una mappa che abbiamo scoperto stamattina Abbiamo iniziato a giocarci e non riusciamo più a staccarci Davvero una cosa incredibile Io voglio raccontare cosa è successo Esatto, esatto, esatto Prima di tutto, io non so perché stiamo continuando a giocare a questo gioco Noi siamo entrati, allora, volevamo iniziare a registrare alle 11 Abbiamo detto, proviamo 5 minuti questa mappa per vedere se farci un video oggi O comunque in questi giorni, questo è l'orario Mezzogiorno e 10 Esatto, stiamo giocando da un'ora e 10 a questa mappa Quindi a questo punto abbiamo deciso Facciamoci assolutamente un video Anche perché è tra le più giocate in questo momento Quindi sta proprio spopolando E adesso vi facciamo vedere di cosa si tratta Come funziona questa mappa? Allora, praticamente abbiamo questo portale Da questo portale escono dei mostri Che vanno uccisi Ogni volta che le mazziamo fanno cadere dei soldini Che prendiamo Con questi soldi noi possiamo ingaggiare delle persone che combattono per noi Abbiamo Beowulf, Conan, Robin Hood e Dan Sono tre persone storiche e poi Dan che è uno youtuber Non so perché l'hanno messo Tre combattenti storici Quindi è un po' strano che abbiano messo anche Dan Però vabbè, è una cosa fantastica che combattono per noi E poi ci tenevo a dire che non sono bestie Sono animali carinissimi Cioè hanno messo questi animali uno più carino dell'altro Effettivamente sì All'inizio c'erano le papperelle Comunque possiamo potenziare i vari combattenti che abbiamo Quindi renderli più potenti E allo stesso tempo però possiamo potenziare il nostro attacco Per fare più danno con i singoli colpi che facciamo E guardate che figo come combatte con la spada Vieni qua E oltretutto Oltre a potenziare il nostro attacco Acquisiremo anche delle abilità Infatti guardate la barra sotto Esatto È una specie di trottola Adesso ve la facciamo vedere magari quando c'è un boss Perché sì ci saranno anche i boss Appunto per non sprecarla Perché ha ovviamente un timer di 10 minuti Quindi si potrà usare ogni 10 minuti E avremo anche queste abilità che fanno tantissimo danno È fantastico Praticamente qui possiamo aumentare il livello o diminuirlo Ogni 5 livelli c'è un boss Che si hanno solo 30 secondi per riuscire ad ammazzarlo Se non riesce ad ammazzarlo Si resetta Quindi bisogna essere potentissimi di danni Io in questo momento ho 57.000 gold Perché ho i miei schiavetti che picchiano da due ore Ammazzano tutti i mostri Quindi sono pieno zeppo di soldi E quindi mi potenzio tantissimo Guardate quanto mi potenzio Brutto Oh vedi Adesso iniziano ad esserci quelli un po' più brutti Guarda come lo picchio Guarda i danni che fai Guarda i danni Concentrati Concentrati Forza 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 Bisogna cliccare i mostri velocissimi ragazzi E adesso vi faccio vedere l'abilità Così almeno non sto neanche a cliccarlo Guardate il danno Guardate il danno Lui va da solo Dura così per tantissimo tempo E fa un sacco di danno Comunque detto in poche parole Questo gioco Questa mappa Si Si basa sul fatto di Uccidere sempre mostri diversi E potenziare sia noi stessi Sia I Come si chiamano I nostri aiutanti I nostri aiutanti Chiamiamoli così O seguaci Signor Maialino è molto felice Perché ha detto che finalmente C'è una mappa adatta a lui Perché poi nelle sue corde Si lui non vedeva l'ora di picchiare Potenziarsi Diventare un guerriero potente Eh lo immagino È uno dei suoi sogni più grandi Lo immagino Capito E tu Poi nel futuro Vedrai Conan il barbaro Beowulf Dan E signor Maialino Che diventerà un combattente potentissimo Nel corso della storia Che poi in questo momento Abbiamo anche un secondo animaletto Che ci dà il gioco In questo momento Tu hai una specie di pandino No è un panda Un panda Un panda Mentre io ho un riccio È troppo bellino Eh lo so Il riccio è più bellino È troppo bellino E per il più mi aumenta i danni Ma come l'hai cambiato? Dopo un po' di tempo Quando diventavo più forte Mi si è proposto questo ricetto Io l'ho cambiato Ah ok Quindi possiamo cambiare anche gli animaletti All'inizio l'animaletto serviva Per darci consigli sul gioco Esatto Quindi non so poi Se avrà qualche altra utilità Però è bellissimo Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Guarda La nuova spada Oh mamma mia No Vabbè Bella Allora Guarda il manico Dimmi che non è la spada di signor Maialino Cioè sono le sue ali quelle Non ci credo Sono le sue ali Io te l'ho detto Non ci credo Che questa era la mappa adatta per lui Dove lui può dare sfoggio Delle sue incredibili abilità Quindi Mi potenzio un po' Robin Hood Perché qua da dietro con le frecce Lo posso potenziare Da 385 di danno Che fa con una freccia A 481 Pagando semplicemente 1400 monete Ti potenzio ancora un po' Ti porto Facciamo che ti porta addirittura A 1000 Con una sola freccia Ok Un danno Io ho scoperto una cosa fantastica Incredibile Aspetta Adesso te la faccio vedere Ok Ecco Ci sono Cos'hai fatto Guarda Oh no Che è successo Mi hanno imbrogliato Cioè Ah no è così Praticamente ho trovato una cosa nello shop Vedi la scia che lascia la spada Sì Per poter cambiare il colore a quella No ma lo paghi Lo paghi Allora al inizio mi ha fatto mettere Poi mi ha chiesto i robux Dimmi se questa è una cosa Normale da fare Ti volevo fare una sorpresa Ci sono cascato prima Ho detto così gli faccio vedere Il cambio di scia Che magari non ha ancora visto Quindi è fighissimo per il video E invece mi hanno imbrogliato Signor maialino no È un po' arrabbiato Sì Sì Ti hanno fregato Sì Assolutamente Sì Ti hanno semplicemente fregato Allora Beowulf Tu devi fare un bel po' di danni in più Perché qua mi sa che stai rimanendo un pochettino indietro Voglio portare tutti a mille L'obiettivo è vedere L'obiettivo è vedere i loro quattro Che da soli riescono ad ammazzare il boss Guarda Sì Mi sa che ci sono arrivato Guarda 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 ce la fanno Ce la fanno Ce la fanno Ce la fanno Quindi adesso Giusto giusto Rimango fermo qua E faccio un sacco di soldi Giusto giusto Però ce la fanno Ehi come va? Ci prendiamo un caffè? Tanto ci pensano loro Andiamo 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 Questo qua è il ponte Che ci porta nella piazza Dove si possono incontrare tutti i player Adesso facciamo vedere anche quella E qui c'è tutta la zonettina Diciamo dove ci si rilassa un po' Senza combattere Qua dentro Scusa dove sto andando? Voglio vedere cosa c'è qua E lì c'è il prete È una chiesa Chi è? Chi è? È Mozart Io non lo vedo Sai perché non lo vedo? Perché sono ancora bloccata con lo prima Sì Mozart Sì Che combatte Sì Ha suoni musica? Sì Adesso abbiamo Beowulf Conan Robin Hood Uno youtuber E Mozart Vabbè scusa Per dare la possibilità un po' a tutti Una squadra incredibile Scusa cosa mi vuoi mettere? Andiamo a vederlo Cosa mi vuoi mettere? Sono guerrieri Mettiamo anche gli youtuber Scusa cosa ne sai? Sembra giusto Sono youtuber capace di combattere o meno Io sarei capacissima di combattere Cioè guarda Questi sono acciaio Capite? Acciaio Quindi potrei combattere Ti ci vedrai benissimo lì in mezzo a combattere Guarda Mozart No è proprio con la bacchetta per dirigere Capito? Praticamente fa della musica brutta di proposito E fa male all'orecchia al mostro Secondo me Capito? Ho bisogno di capire che cosa ha qui Secondo me che cosa è questa cosa? Che cosa? La cosa che ha attaccato ad os La nota musicale? No 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 Praticamente Sì? Tu lo vedi che fa così col violino Eh ah Ok io lo vedo E parte la nota musicale però Aspetta guarda eh Vedi? A son di freccia parte una nota musicale che infizza il mostro Ti stavo spedendo il problema che ho Damme e Mozart è buggatissimo Andiamo avanti Livello 16 Andiamo avanti sicuramente No i pinguini Ma guarda non fanno in tempo uscire Sono troppo forti i nostri aiutanti Vai mi ci metto anche io Mi ci metto anche io Sono troppo forti Vedete praticamente per fare ogni livello Prima di poter andare a quello successivo Bisogna ammazzarne 10 Dopodiché puoi decidere se rimanere in questo livello O se passare a quello successivo Certo Adesso andiamo direttamente velocissimi Fino al 20 Ovviamente anche perché la cosa che mi piace È che c'è la possibilità di tornare indietro Quindi se tu vieni a un livello Ti rendi conto che sono troppo forti E non riesci a farlo Torni indietro Torni indietro Ti potenzi E vai a rispaccare la faccia a tutti È fantastico Fantastico Allora li ho fatti tutti 10 Sì possiamo passare a livello 17 Dai 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 Veloce a livello 20 Che voglio vedere il nuovo boss Voglio vedere il nuovo boss Però secondo me Non abbiamo abbastanza danni per farlo Può essere sì Perché questi facciamo un sacco di danno Ma i boss sono sempre molto più forti È qualche nuova abilità da comprare Ah brava controllo No 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 Peccato Ne mancano solo due Siamo pronti al nuovo boss Ma guarda sono quasi sicura Che non possiamo farcela Io te lo dico Però aspetta Mentre fanno gli ultimi Mi posso provare a potenziare Per arrivare al livello 100 Ok Non ho ancora abbastanza Perché a livello 100 Sbrocco una nuova skill Che è semplicemente un aumento del danno A livello 100 di che? A livello 100 Vieni qua a livello Ti dice aumenti il danno di tot Però sei anche di un livello In questo momento io sono un livello 92 Ok perfetto Sì non l'avevo notato Quando arriva al 100 Mi dà il 150% dei danni in più Quindi farò un sacco di danni in più Il mio obiettivo Mi ha detto un figlio gigante Zombie 750 mila di vita De uno zombie pinguino È uno zombie penguin È bellissimo Guarda Ha un po' di occhiaie Dici che secondo te Si sente un po' male Pinguino stai bene? Guarda la faccia Come stai? Eh non ha dormito bene Non ha dormito bene Poverino Non so se hai notato Quanto è impossibile farlo Per ora Sì non gli hai fatto niente danni Perché si vanno fatti L'avamo già detto Ogni 30 secondi Sì hai 30 secondi per ammazzarlo Altrimenti torna pieno di vita Esatto Quindi va fatto super veloci Con super danno Quindi allora Dimmi Torniamo indietro di un livello E ci potenziamo appunto Uh Ogni tanto capita Quello volo in aria Picchia tutto Picchia pinguini Non è vero Sei utilissima Ti ricorderemo per sempre Come l'aiutante Che non faceva danni Esatto Guarda mi metto qua In cerchio come loro E faccio finta di lanciare anche delle spalle Brava brava Dai un colpo a ritmo Ogni tipo 3 secondi Allora 2 3 Via Colpo 1 2 3 Colpo Vedi Hanno messo anche Ferinichi come youtuber A combattere Giustamente Giustamente Io e signor Maialino Solo per i consolini compari Capito Certo Solo per i consolini Però chi non è consolino Mi deve pagare 2 milioni 2 milioni 2 milioni Va bene Mi sembra il prezzo adeguato Ho 90 mila Dovrebbe bastare Per arrivare a quello che ho detto Vediamo un pochettino Allora 94 95 96 97 98 99 E mi mancano 1000 gold Per fare 100 Non ci credo Non ci credo Ok ce li ho Quindi sono livello 100 A questo punto 40.000 gold Oh mamma mia Quanto dobbiamo ammazzare Pinguini 40.000 gold E posso appunto potenziarmi I danni del 150% Quindi teoricamente Vado oltre il doppio Non so bene a quanto vado Ma dovrebbe bastare Per poter fare il boss Insomma Sì 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 Abbiamo 40.000 Ok Vediamo quanto ci aumenta Vediamo quanto ci aumenta Da 800 A 2000 Wow Cioè facevo 800 di danni Con un colpo di spada Ma adesso lo picchi Lo picchi malissimo Andiamo Guarda Anzi Trottoliamo Non ce la facciamo neanche così? Non lo so Allora vediamo i danni Che tirano gli altri Perché anche quelli Poi comunque sono una bella botta Di danno Vediamo un po' Sì ma guarda Nel caso siamo proprio giusti 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 Vedi? Eh sì Oh mamma mia No è davvero tosto Il livello 20 è davvero tosto 7 secondi 6 5 5 4 Dai 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 Uccidilo Non ce l'abbiamo fatta per un secondo Per un secondo Non ci posso credere Non ci posso credere E abbiamo usato pure comunque la nostra abilità Quindi facevamo anche più danni rispetto al normale Che cos'è? Che cos'è? Vedi? Sì l'ho visto No mi ha dato un animaletto Mi ha dato un animaletto Guarda che cos'ho Capitano cose random Guarda Oh mamma mia è fantastico Oh mamma mia è bellissimo Un ipopotamino viola È bellissimo Ciao È troppo bello No no lo voglio anch'io Ma quindi ti li dà casualmente Ti dà delle città Come oggetto da raccogliere Esatto come oggetti delle baghe Non l'avrei mai detto Ti dà Fantastico Mi fa malissimo la mano da quanto ho cliccato E ci credo E ci credo Non mi si muove più però Sono arrivato a 290 mila Allora Tantissimo Ci potenziamo Mozart Lo portiamo a fare 7 mila danni Solo lui Wow 7 mila Robin Hood deve arrivare a fare 3 mila Perfetto Voglio anche almeno Dan a 3-4 mila Vediamo un pochettino a quanto riusciamo a portarlo L'ho portato a 4 mila anche lui E guarda adesso i pinguini Guarda già adesso quanto li fanno Eh sì guarda Ora sì che si ragiona Prima di iniziare ti voglio far vedere una cosa Aspetta Ah devi finire Sì 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 Mi faccia vedere Quanto l'hai portato Ho la spada in 8 bit No Ho trovato la nuova spada Non è troppo carina Che bellina Guarda che bellina È troppo carina Sembra quella di Minecraft È fantastica Sì 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 Sei pronta Siamo pronti Sì sì Andiamo Sì sì Andiamo Questa volta guarda io non ho neanche dubbi Quindi non guardo neanche Ok Ma è un pinguino normale? No O lo vedo buggato io No no non muore Cioè ci manca solo che sia un pinguino normale No ok ascolta Non praticamente vedo un po' di cose buggate Ok Quindi praticamente è uscito fuori un pinguino normale Sta morendo Ok Ando sì ma anche io lo vedo un pinguino normale Però con la vita da boss Eh esatto Vedi che è un pinguino di storia Dai 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 Muore Quanto ci ha dato? E adesso è uscito lo zombie pinguino Vabbè quanto ci ha dato? 10 3 O 40 o 50 mila Vabbè ma quanti soldi? Quanti? Però guarda che è tostissimo Sono proprio al limite È tostissimo È tostissimo Infatti adesso cerco di ammazzarne un altro Mi sto spaccando la mano in una maniera incredibile E ci credo Dopodiché uso l'abilità così mi riposo la mano E ne ammazziamo altri due Eh ma poi adesso avrei la possibilità di potenziare tantissimo Il seguaccio anche te stesso No ma penso di potenziare me stesso Perché per i boss a me sembra sempre che sia più importante il danno Che fai realmente tu Dici? 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 Sì Dici che è più importante Allora sì dai Una bella potenza Come sta? Oggi c'è bel tempo però Che bella questa abilità Che bella questa abilità Mi costa centomila prenderlo Assolutamente Bene che ci riesci Dici un certo Sendici me like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao